Una mostra stupenda, una mostra che racconta Luca Signorelli, la sua arte, la sua capacità di portare Cortona nel mondo. Una mostra di livello internazionale da visitare e da far conoscere in tutto il mondo. Cortona al centro del mondo, grazie anche alla mostra Signorelli 500, un investimento molto importante ma che sta dando davvero grandissime soddisfazioni non solo ai cortonesi ma direi a tutta l'Italia. È una mostra di altissimo livello che vede già ingressi per 15.000 persone, una mostra che si lega al territorio e che crea un indotto turistico molto importante. Cortona rimane la perla della Valdichiana e di Arezzo in termini culturali. Proprio oggi con la visita del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzero abbiamo superato i 15.000 visitatori alla mostra Signorelli 500. È un grande orgoglio per Cortona, è una mostra che ha veramente rispettato tutte le premesse e finalmente proietta Cortona nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte ad ampio respiro. Sono convinto che moltissimi godranno di questo allestimento che sta ricevendo complimenti da parte di tutti. E sono anche soddisfatto che Regione Toscana si sia mostrata sensibile e presente per questa iniziativa che sta richiamando a Cortona migliaia di visitatori. Luca Signorelli meritava un percorso di approfondimento, di ulteriore conoscenza della sua grande arte pittorica. Insieme siamo riusciti a fare una bella pagina di storia cortonese.